Si riconferma campione indiscusso salendo sul podio dei vincitori della Car Grafica Alf Marathon svoltasi ieri a Barletta, il barlettano Domenico Ricatti. Per lui il primo posto della straordinaria manifestazione sportiva organizzata dall'Associazione Dilettantistica Barletta Sportiva e che ha goduto del patrocinio del Comune di Barletta, della provincia BAT, oltre che del CONI Provinciale e della FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera e della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Una domenica insolita, quella di ieri, per la città della disfida. Barletta infatti sveglia dalle prime ore del mattino per un evento che ha portato in città 1800 atleti, professionisti e semplici appassionati provenienti da ogni parte d'Italia, che hanno letteralmente invaso le strade cittadine inserite nel circuito della prima edizione della mezza maratona, gara apodistica sulla distanza di 10 e 21 chilometri. Una manifestazione che per numero di iscritti si è dimostrata evento di grande richiamo, certamente da ripetere. Grande poi il consenso del pubblico che ha potuto seguirla comodamente da casa grazie alle riprese in diretta di Teleregione sul canale 178 del Digitale Terrestre. Il ritrovo dei circa 1800 atleti allo stadio Cosimo Puttili di Barletta. Quindi la corsa si è snodata verso la nuova 167, ha attraversato il centro storico cittadino per poi raggiungere le bellissime litoranie di Levante e Ponente e ha attraversato il centro storico il ritorno sulla pista dello stadio, dedicato all'indimenticabile campione olimpico e recordman mondiale Pietro Mennea. Un punto di riferimento cui guardare, Pietro Mennea inevitabilmente anche per memoricati l'atleta del gruppo sportivo aeronautica militare, Barlettano ma a distanza Modena, che ha tagliato il traguardo riuscendo ad avere la meglio su altri big dell'atletica leggera che hanno preso parte all'evento. Tra questi Matteo Piono Tarangelo, secondo posto Alberico De Cecco, terzo al campionato del mondo dei 100 chilometri. Grande prestazione anche per le donne, a tagliare per prima il traguardo Enrica Teresa Delfine degli Amatori Putignano, secondo posto per Alessandra De Luca dell'Atletica Latiano e terzo posto per Mariella Di Benedetto della Barletta Sportiva. Tra vincitori e vinti a salire sul gredino più alto del podio, senza ombra di dubbio il vero significato della car grafica Alf Marathon, che oltre a essere banco di prova importante per gli atleti professionisti, ha rappresentato un'occasione per vivere un sano momento di sport e aggregazione sulle scia dello slogan dell'iniziativa La vera sfida è superare se stessi, filosofia di vita dell'indimenticabile Freccia del Sud.